Mi chiamo Luzi, non ho un blogger, faccio l'avvocato e questa è una passione. Cucinerò una pasta del Salento, si chiamano minchiarieggi con il pesce. Il nome è un po' strano però è quello insomma. E boh, vediamo quello che esce. Ciao a tutti, sono la luna sul cucchiaio e il mio piatto di oggi è, chiamiamo un piatto di recupero in economia, sono dei ravioli con una parcia di cipolle brasate serviti su una salsa di pane nero. Eccoci, 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 finalmente uno dei miei piatti preferiti, le cozze! Ciao a tutti! Ciao a tutti!